Sofferta, acciuffata solo all'ultimo respiro, meno limpida di altre, ma comunque vittoria, la quarta di fila, di fatto la cosa che contava di più. A Castellammare non è sceso in campo il miglior Catania degli ultimi tempi, su questo non c'è dubbio, ma è comunque arrivata una di quelle vittorie che valgono doppio, triplo, proprio perché stavolta il Catania ha vinto anche senza brillare. Non è stata una bella partita quella con la Juve Stabia, con i padroni di casa poco incisivi e i rossazzurri che solo nella seconda parte del match hanno provato a spingere sull'acceleratore. Di grandi occasioni ce ne sono state poche, pochissime, tolta la punizione di Lodi e qualche altro spunto, lo 0-0 sembrava la naturale conseguenza di un match piuttosto noioso. Al Catania magari il punto sarebbe comunque andato bene su un campo duro come quello della Juve Stabia. Poi però è arrivato il Lampo di Mazzarani, un gol in pieno recupero pesantissimo in chiave primato. Un gol da tre punti che consente al Catania di allungare la striscia di vittorie consecutive e nel contempo di tenere il passo del Lecce che ha battuto il rimonto a una regina combattiva e che altrimenti sarebbe scappato via. Il distacco è ancora evidente ma i pugliesi hanno giocato una gara in più e sulla carta il Catania è lì pronto ad agganciare il Lecce alla prima occasione utile. Tutto merito di un gol allo scadere in un match senza troppe emozioni. Segnali confortanti direbbero gli appassionati di queste coincidenze. Tre punti pesanti dicono senza timore di smentita agli altri. Questo è sicuramente un dato di fatto.